Buongiorno, novità succosissime. Allora, nuove app in Google Search Console per vedere lo stato di ispezione dell'URL e la possibilità di metterle su uno sheet, quindi super utile. Google Ads guida alla creazione dei report di display e smart shopping, molto molto utile anche questo da fare subito. Google Fonts viola il GDPR, che cavolo va a letto tutta sta roba. Google Ads, termini di ricerca locali, questa è una bomba bellissima, a me non mi appare ancora, legate alla concorrenza. Ma che spettacolo! Subito da indagare. Gestire piccoli i picchi di traffico e conversione in Google Ads, aggiustamenti a stagionalità. Bella, anche questa non la conoscevo. Classifica di brand di maggior valore nel mondo. Bella, anche lì c'è italiani nuovi. TikTok che ovviamente cresce. Performance Event, il paper strategico per ingegnerizzare un evento di successo. Interessante. Come lo scegli il nome di un dominio? Provocatorio. Questo mi è piaciuto, mi si è volato via un ciuffo. Google afferma che non esiste alcuna corredazione tra l'impression e il volume di ricerca. È riuscito qualche giorno fa sta cosa, però appunto, meglio approfondirla. Google Ads, spegnere le estensioni automatiche che rompono le scatole. Come farlo? Le immagini, i volti, il neuromarketing. In altre parole, mettici la faccia. 38% di efficacia in più se nell'immagine c'è un volto. URL personalizzato del profilo LinkedIn. Addirittura in un'ottica un po' SEO, con le parole chiave. Google Shopping, altra bomba. Praticamente, in questo report è molto interessante, c'è la possibilità di usare su shopping delle foto ambientate. Come fare un test a B, non lo spiega qua, ma in realtà in modo c'è. Lo shopping comparativo. Quindi, assolutamente, utilizzate il shopping comparativo. Assolutamente da provare, bellissimo e molto efficace. Questa è una rivoluzione, davvero. Come usare i Facebook Ads per trasformare il tuo blog in una macchina di conversione? Interessante. SEO, il Canonical, una bella guida, un bel ripasso. Facebook Ads Tips, leggete il post di Michael perché lo spiega 100 volte meglio di me, sempre interessante. Quanto costa la pubblicità che passa durante Sanremo? Tanto, costa tanto. 545 mila dollari pagate in ETH per un NTF, che in questo caso è la gif di quel gattino con la fetta di pane che è piripiripi con l'arcobaleno, molto bellino. SEO, se il prodotto è sostenibile, dillo subito. Chi offre chi cerca lavoro? Davvero, ditemelo, sto cercando di metterlo insieme, almeno faccio pulizia una volta per tutte, perché se no ci diventiamo un scemo con Whatsapp, grazie mille. Stasera alle 18 parliamo di video molto interessante, io non vedo l'ora, quindi tutti invitati. Che le carote fanno vedere meglio? È un'invenzione, un esercito inglese che hanno usato per giustificare, perché non sapevano altrimenti era puzzosa la questione del radar, come facevano questi inglesi a bombardare di notte. E usarono una scusa delle carote, però questa fake news si è mantenuta. E infine cosa c'era rimasto? Non mi ricordo. Ah, lo scalda a piedi, proprio su fuoco, con i miei piedi dentro, bruciando anche la coperta. Per l'altro è stato anche piacevole, perché a parte l'odore strano, un po' di bruciato, era così caldo, ci stavo benissimo, però ora mi dispiace tanto. Detto questo, buona giornata, ciao!